Previsioni del tempo per sabato 19 giugno su Puglia, Basilicata e Molise. Situazione generale. Correnti nord europee punteranno verso il centro nord e influenzeranno marginalmente anche il basso versante adriatico. Nubi in aumento sulla dorsale tirrenica con piogge rovesci dalla serata su Iserniese e Lucania tirrenica. Stratificazioni talora compatte in transito altrove. Temperature in decisa diminuzione con clima più fresco, specie in quota, venti moderati da ovest-sud-ovest, mari da poco mossi a mossi. Vediamo ora le previsioni sulla Puglia. La tendenza sarà verso una vivace variabilità a causa dell'arrivo di correnti umidi e atlantiche. Nella fase centrale del giorno potranno formarsi nubi più vivaci nelle aree interne, causando qualche sporadico acquazzone. Temperature in decisa diminuzione con clima più fresco, specie in quota, venti moderati da ovest-sud-ovest, mari da poco mossi a mossi.